Sei ricoglionito Pace lupo stream su Facebook Yes Lupo è un bot che streama su Facebook Esatto esatto Nel tramonde che cazzo Allora Prison di solito Andiamo noi due Si purtroppo lo seguo Perché sennò senza di me muore Poi piangi questo Sto tramonde Ma chi piange Tu Ma chi piango In me da un Cuccione Sto marcando dell'equipaggio Nia fammi di che sta fai Ciao ti hai fatto scoppare Abbiamo soldi Eh ho visto Ma tramondo il partito all'attacco qua Se me li date vado a fare loadout Vieni Fai che vuoi signore Fai che vuoi Oh 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 Ma ha sparato zio Bella a tutti ragazzi Buona domenica Buona sera domenico Bella bari Bella capo No capo ciò è bella non lo dico Bella giuere Bella Lorenzo Perché questi ci vogliono pusha Perché questi ci vogliono pusha E il primo è andato zio No come cheat pippo Pippo il cheater zio E' one shotissimo quello bro One shot Vabbè prendiamo questa Stanno pushando Stanno pushando Stanno pushando Sale qualcuno Sale qualcuno Sto saliti i due Sto saliti i due Eh dentro casa Me l'ha pushato Tutti i quattro Ciao C'è uno sul tetto eh Ah ma tu hai pushato I due quarter Pezzo di fango Sul tetto di prison C'ha un pushato bro Ah io ho pushato qui C'è uno degli upmas però In lobby Minchia lobby stra italiana No sul tetto c'è gente Eh ha fatto la cazzata Si ha preso le mie armi Ehm Ah se dovete Non andate sul tetto regà Non andate sul tetto che è pieno Strapieno di gender Si che vive Ah c'è pure quel botto di piro Mannaggia quel botto di piro Dai che sto non sei dai dai Bella man Manue Manue Mica bella caravaccio Vola a sera Eh ma non possiamo tornare bro sul tetto Pia le armi C'è un full team di italiani Che cambra bro Mannaccia la No niente Ma io pusho Ma io pusho Ma che cazzo pushi Comunque devo togliere lo scatto tattico automatico Mi ha rotto le palle Se mi dite posso venire sul tetto vengo Ce ne hai due eh? Tre Sono tre eh? No ma se blocca Sono tre eh? Aspetta che se blocca così Sono tre eh? Così No ma se blocca però senza lo scatto tattico automatico se blocca è brutto Oh sei ancora tu e sei sopra Ma te l'ho detto te l'ho detto frazzi aspettavi un attimo c'è il lancio qui di fianco C'è uno degli upo massi E' qui l'ho però Sparta ci sei? Ci sei ci sono Uh No Vabbè gg gg Scansione Attenzione Arriva qualcuno Vai Push 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 Lopo vai Eh push 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 Zio sono due attaccati qua che mi aspettano Se mi dà una mano Tra l'altro pure localizzato Questa può scendere Questa può scendere Questa può scendere sicuro E invece no anzi Che è rimasto Eccolo 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 E' a terra Oh E dai si è incastrato però che gioco Oh Una serra Questo qua non ci ha preso una kill Vabbè C'è un altro Esce il cascato Uno mi sa che è andato esciuto sul tetto Il problema è che non c'è piastre Ci avete piastre? Guardi un attimo Perché ti sei andato così alto? Ah ma Stai ti devo abbassar bro No Mi ha detto sto bucchino Chi vuole piastre? Io 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 L'avete fatto sul Sulla torre? Sì No 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 Quello no Vabbè comunque Due Ora trenta siamo Sì Cioè bisognerebbe pushare E' la uno Lo vedo Lo vedo Lo vedo Certo Certo Il problema Ha fatto quello degli upmas Ok No Sulla torre 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 Ma mok Lancio una granata Mi miro Ma come è crackato? A terra A terra A terra Quello Sulla torre Vaffa 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 Magno Guarda Sta salendo uno eh Sparta da testa I cazzotti Aspettati poi Aspettati poi Aspettati poi Guarda così Se non lo sapete come cazzo sta definendo lì a terra Avrivo Un resto luco Ah ma tu sei finito qua a terra? Sì Io sto senza piatto Pensavo che ricorda Sì Perché abbiamo una casa di fronte X Carmine Premo X Però ci sono i tasti sotto al palco Oh ce la fate di la? Sanno tanti soldi? No Niente niente Io sto senza piastre fratellino Che vuoi fare? Che vuoi fare? Io voglio che non fai il bot Zitto zitto un attimo Dai niente non volevo fare una giocata non mi è riuscito Lo può con 3 kill mi da il bot Lo può con 3 kill ma Zitto Sto fredando da 3 ore con questi Sono bloccato a sparare a quelli sulla torre zi da 3 ore che non si muovono Eh ma ancora 2 sopra qui guardali Tu che cazzo scendi la? Piegamolo Ancora 2 sopra qui qui Tanto devono scendere Bonesia Ed Ui Bonsai Lol un'altra cosa si guarda lì no ma hanno preso lupo a destra a destra a destra non solo a destra lo so che c'è sta gente qualosso un altro lo sopra grazie per il ping a terra anche lui no no sì che cazzo 12 tramonte non può camperare un po' di tanto mi aiuta? c'è per farmi? sì 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 ma non passare così davanti sì lo so c'è gente lì nella finestra non l'ho visto proprio te lo giuro non l'ho visto mi ho fatto una cazzata non l'ho visto però sono perso non l'ho visto proprio arrivare si opera dg che vedevo dire? eeeh porr**a mannaggia zio pera l'ho perso balla giorgio buonasera buonasera è impazzito tramonte è impazzito io lo spacco tutto lo spacco prima o poi amma mia se lo spacco tramonte prima o poi bella pietro ma si è cambiato pure il nome vuole sapere lui che mi pessime mani eh tutto nelle mani di spartacus dai che mi aspetto la giocata finale contro della sesta stagione spartacus non ho il pollice del mi piace che senso non è il pollice del mi piace? posso entrare mi piace la live che significa? ma che ho fatto spartacus? signori è impazzito spartacus signori è impazzito spartacus va bene bella si è dato fuoco da solo bella bella va bene bella ragazzi un bacione a la prossima mi spiace cinquantamila euro non l'abbiamo vinto ciao a tutti ciao ragazzi allora guarda tra le chiappe no vabbè capocciore capocciore qualcosa è combinato signor capocciore qualcosa è combinato quindi no mi venga qui a dire che non ha mi compare che ho mandato non c'ho molto il telefono qua ce l'ho sotto carica devo vedere dopo senta signor capocciore veda quello che deve fare non è possibile che hanno tagliato il dito del like la giocata della sesta stagione allora signori va si continua si continua contramonte presidente bot perché aveva pure detto guarda io ho già 8 kill fine della partita io avevo più avevo 5 zitto quando hai finito ha 8 io che ho fatto 9 kill e ti ho superato grazie grazie silenzio silenzio non parliamo più Antonino grazie del follow benvenuto ciao Enrico no vabbè per un attimo avevo letto bonolis che sta succedendo in chat tiro a più un pelo di bue o di di quell'altro sicuramente di quell'altro non del buo il buo che cazzo cazzo deve fare il bue mannaggia la miseria piacere di aver giocato con te ma mannaggia moreno mannaggia mi segui pure da un anno come hai detto non lo conosco un po bianco mi dissocio mi segui da un anno certo il set dell'NZ però rimarrà storica la giocata della della monodove che ti sei dato fuoco da solo quasi per che cazzo ridi comunque questo è il settaggio dell'NZ vediamo un video buona domenica Mauro hai letto cosa dove quando perché sul gruppo non posso leggere mo sul gruppo allora eh ridi eh ridi eh ridi comunque questo è il set eh 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 mo ha messo mi piace domenico guarda la guarda la ha messo mo il mi piace domenico guarda la non mi spunda non mi spulla il pollice eh eh ma è ricresciuto il pollice mannaggia ma ma guarda che pdf che è allora pronto? facciamo una colletta per comprare il pedale a il più bianco grazie si miseria però ma l'ha detto che è un pedale di 10.000 euro eh ah madonna il pedale per mutare e smutare 10.000 euro no oh no mi dissocio ma come la si fa questa mia no 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 sono su facebook io è su facebook è su facebook è su facebook è uguale no non è uguale signori oh ma oh ma ma dai ma dai ma dai veramente bella bella oh oh cacchio c'è 3 ish c'è 3 ish cao bro eh bravito eh bravito sì sì certo tutto scopriso sì eh lo cacchio era camperato questo qua ma va va ah allora bella lorenzo boh povericcio adriano mi sa che i ragazzi qui bestemmia non li devo mutare e non ultima chance anzi bro vattene ha preso no ha preso non ho fatto il lancio mo' al carrello allora ragazzi se mi assicurate che non dite bestemmia parolaccio eccetera veri smuto per la live se no vedo l'ultima non posso sono partner facebook con 35.000 follower non posso sapere in cazzo della vabbè eh signori li tengo mutati perchè oh c'è l'amico tutta e ravenzio niente niente non li posso smutare perchè sono a rischio di parolace bestemmia con magna bella i ragazzi che abbiamo beccato quindi nada sì ci stanno quelli del team tuo sì ho capito ma abbiamo gente qua fra dai che palle dobbiamo fare il lancio quanto abbiamo oh ma i soldi ce l'abbiamo per il lancio oh 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 andate a misi i soldi visto vai 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 che è craccato a terra raga ho usciato un altro team nel frattempo eh il god attento c'è sta sopra stanno sulle scalette però non li hai visti è entrato è entrato cazzo sono sono senza l'avete fatti? oh ancora oh ma quanti ne sono? oh ha usciato fra che non mi lascià niente eh niente eh bro sono one shot senza hai lasciato nel momento peggiore sono dovuto tornare indietro ha chiuso eh no vabbè niente lasciatemi solda facciamo sto cazzo tancio vabbè niente vabbè niente vabbè niente spero ma non c'è io qua va a fangurufo come va a fangurufo oh l'amico tuo non è contento no no non lo conosco questo qua ah non lo conosce che non ho giocato con lui no no era di un altro team tuo si 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 ma facciamo un lancio ma avete messo i soldi? stanno venendo al carrello hai detto di andare a fangurufo mi ho visto oggi bello l'amico tuo beh sicuramente con il rave nel ciapo non ci trovo perchè mi hai detto i soldi i soldi regà se non lo conosco oh eh 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 parla con l'amico tuo oh tramu il mortacci tuo è da mezz'ora che sto aspettando i tuoi soldi eh eh perdonci l'avete porco zio eh no eh guarda qua guarda qua ci ha busciato ho attenzione se ci fanno girare le spalle dai vabbè fatto fatto sicuro? ah è sempre lui prendiamo il lancio regà oh si stava bloccato il lancio c'è ancora gente eh è normale e ci ha ripusciato il team di Raven fra ma dagli messaggio sul gruppo di di non rompere le scato eh 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 c'ho scasso cazzo di così infatti infatti dove la costanza? buon pomeriggio oh oh e ancora boccione 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 bro oh cazzo ma perché la gente deve giocare così a campionare? oh ma no no da sopra tanto che boccione sta sul cornicione qua del di prigione sulle mura sulle mura le mura le mura del Baghdad ah il dart le scelte le scelte le scelte a terra no ma lo dovete fare con per mamma e eh lui quanti quanti lì? uno o solo due? guarda due laggi in fondo oh c'ho eh dimmi che c'è uno a vite prego guarda attento 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 Liv sta lì dentro eh attacco a grappola attacco a grappola eh l'ha buttato fuori dalle mura via 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 audio audio eh audio audio dobbiamo comunicare qua sai che l'ho visto le dende no chi è andato zio prende un attimo tempra nemico sul bolcione eh mi sa quella è qua sempre quello sul bolcione oh oh no non muore non muore sono qua veloce che fuori l'ho trattato guarda non è sotto di me sta salendo sta salendo l'ha fatto God? ti ha confermato? eh mi ha confermato sì dobbiamo buttare fuori sto cavolo di team de raven eh sono ancora qui sono ancora qui loro sotto di bocione eh lo so lo so che stanno tra prisione e bocione fra rompere le scatole ui Raffae che roba è Shipman in che senso che roba è Shipman io non si va c'è ma nemmascio puta muovi ne dai da la mano che dai da la mano ci poi pusha no dove sei proprio mi push ma che c**o questo c***o capito chiama c'è lo zio e l'ho fatto quando mi fai senso se sono torretto ci provo se l'ho ma ce l'hanno qua sono tossici ce l'hanno ce l'hanno con me questi arrivo 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 uno te l'ho fatto ce l'ho in alto e niente a me è scappato sto arrivando sto arrivando sto arrivando vabbè vai tu brah quello lì che tacchilata a te uno di quei tossici proprio ha detto che io sono scarso no no non sono i raven altro team ancora di italiani bombardamento mi faccio fuori allora che è successo ciao lupo volevo chiederti se posso avere l'audio di gioco in uscita sia dalla tv che dalle cuffie eh oh no way ragazzi oh ma tutti a noi rompono le scatole ma che è eh esci lupo che c'è uno ah ok niente ragazzi ah sono usciti pure l'oro ah porco zio allora se posso avere l'uscita sia dalla tv che dalle cuffie in play 5 questo bisogna chiederlo a tramonte che la sta utilizzando più lui io sono da computer ormai e ne ha tramò puoi avere sia l'audio del gioco che esce dalle cuffie che dalla tv si grazie no 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 fra o da cuffie o da tv non si può tutte e due così dice tramonte il presidente poi non lo so bella lorenzo poi non non ho idea ciao vale io non la uso da parenti da parecchio non ho mai provato a fare una roba del genere eh chi è questo pdf abbiamo incontrato i compagni vostri Raven adesso in partita eh signore si abbiamo giocato con il prodotto è uno di quelli lì insomma un po' tossichello un po' tossichello è il ciapo io prenderei i provvedimenti grazie poi abbiamo beccato un altro tossico da amico dei trash come si chiama lui giusto per contemplare il tutto e niente belle belle ste robie di domenica probabilmente si però non so quanto possa funzionare sulla play 5 però si potrebbe fare si forse con una scheda audio si potrebbe fare si però poi la tv deve avere un'entrata audio cioè dovrebbe avere poi la tv un'entrata audio tipo aux che tu così dalla scheda audio metti l'entrata aux della cuffia e poi c'hai l'uscita aux che va magari nella tv fra un bordello secondo me diventa un casino però volendo si è dato una buona idea si può fare anche così se la tv c'ha l'entrata tipo aux e robe del genere basta collegare l'audio alla tv eh no ma lui dice capito vuole sia in cuffia che la tv quindi dovrebbe andare il problema è che quando tu selezioni la sorgente per le cuffie non te la fa uscire anche in tv capito mi pare allora ora mi volevo anche io mamma mia fra panico le robie sono tosta oggi ah perché come sono entrati eravate in dieci nello stesso posto sembrava multiplayer ah ah eh non me ne sono reso conto no ma no assurdo comunque minchia ci hanno pushato in quaranta nello stesso posto ah io da xbox la sento da un'altra parte eh ma da xbox lui intendeva da play da play non so se si può fare questo no non so bisognerebbe chiedere a qualcuno che lo qualcun altro io non l'ho mai fatto da play no la ps5 praticamente c'ha o la possibilità di sentire con l'usb l'audio quindi attacchi il cavo usb delle cuffie o metti il cavo aux nel nel joystick o il cavo hdmi e lo senti dalla tv praticamente queste tre opzioni uccide anche i nemici senza che affazzano loro ciao da legge ciao jacobo popo pari giocare e che la scottica comunque piacere legionarsi piacere ero un attimo impagnato a fare il cuore bella bella buongiorno buongiorno minchia buongiorno minchia tra poco è buon natale qua eh quindi lui dovrebbe collegare le cuffie al joystick praticamente e il cavo hdmi ecco oh vedo che sei passato con i raven traditore mi dissocio mi dissocio no purtroppo sono finito in una disputa bro siamo stati raven contro raven adesso quindi no no io non è colpa mia non io sono chiamato sono stato chiamato in una guerra tra raven è la putten no ho fatto una cazzetan una cazzetan abbiamo preso il biscotten sì ah questo ah ma perché aveva già le armi preso biscotten grossen e lo devo dire a gattuso no ti banno divine ti banno oh bella laurent guarda qua guarda qua la baguette ci deve salvare a noi la baguette c'è uno qua baguette eh sì perché t'ha capito sono due sono due qua c'era uno c'era due arrivo bella o si benvenuto caro eh scopro no c'è un altro team c'è un altro team che state combinando eh l'ho visto ora lì che fuisce lì che fuisce oh mio dio è dentro è dentro ah oh oh tua terra tua terra bravo aiuto tutto questo qua non c'ho le piazze le piazze mi serve ce ne ho una ce ne ho una qua guarda qua che faccio mozio questo è un pazzo stava col cecchino oh me prego devo provare sta classe grande grande tiralo tiralo ha tirato il carrello carrello ah no hai il carrello ok oh bro ottimo anche il carrello ma dove stanno scendendo sti tizi ma che c'è la parmigiana ok questo cecchino oh bombarda anzio a parte che non mi avete detto che avevo i soldi comunque vi sto chiamando il lancio sotto perché sopra un macello sta succedendo ehm mi hanno chiamato il bomba zio per eh ti sta busciando o non lo può lo so dove è andato eh sì è qui ancora qui in realtà c'è uno sopra tre le scale c'è uno sopra tre biscotti ma io non capisco zio mi sta camminando ma non sul tetto ma ha fatto con l'arco wow e però tramò porco zio mi ha pushato da solo bro ma guarda guarda che succede eravamo rimasti in due siamo andati a morir lì oh se io morivo era finita la partita dallo l'occhiata a quanti siamo in vita madonna mia sto busciando il mondo due mila di danni eh push e muori push e muori push e muori vedi che spiega a me che cosa serve abbiamo uno sopra abbiamo uno sopra che è da tre ore che lo sto cercando sopra? sì o sul tetto o qui non capisco cioè stanno i passi ma ecco qua dove sarà infrattato ma un assalto c'era gente lì sotto con l'arco portaci andiamo via da qua non mi piace sto posto macello da tre ore andiamo a prison allora vai vieni vieni è la domanda sono ora stasera non c'è torneo però però prossimamente ho sparato prossimamente però ci sarà no vabbè one shot è morto le mascele le baghette zio questo è bravo ma che deve essere bravo zio no dai no niente sì il macello ho messo di una mano Eh, ho capito Zio Pera Mi sono sparato con uno Mi sono arrivato in quattrocento Cioè, è assurdo La caccia al lupo La caccia al lupo è diventata No, no, no Lupo è tornato Gioele Ma perché? Che aveva fatto Gioele? Scusatevi Ciao lupo, sempre forte, buona domenica Jenny Grazie mille, caro Buona domenica anche a te Stasera lupo va a dormire Stasera io vado a Mi dissocio Thank you very much for the follow Grazie mille per il follow Ecco qua È molto bello Eh, ma qua ti sono a loadout No, non stiamo andando a loadout No, l'ho down Vai Ti manzo a foggio per così O per esempio io ho le armi che sono morto qua No, ma solo te mi fanno mai via Eh, eh La baguetta l'ha La baguetta si è andata E' andata e non ritornati Ho per sole E me armi per colpa tu Bella voce, bravo Te piace? Nice E voi le faccio sentire la voce di Martina Martina Volpetta Martina No No, dai il francese Ma è giulato Signori, grazie Loro, i caffè? Dai, credo Non ce credo Mentre io facevo il canguro Guarda lì che è successo No, sotto, sotto Il tempo che sono arrivato io Panico No, sotto No, il FAD ha la mira assistita, Piero Ha per forza la mira assistita Certo, potresti togliola Ma non spararesti neanche ai gabbiani Ho chiamato Gattuso Ho detto che ti metti in tribuna In tribuna a stamba Farò il giornalista Caffè, signori Caffettino Oh, io vado al lancio Se stiamo ancora qua Ti faccio bannare Da gold Ho uscito al lancio, lupo? Sì Bravo Perché io poxo Tu no Eh, eh Vabbè Ancora sto qua Mi sa che ha fatto Ha fatto una brutta fine Rob Starly Eh, una brutta fine Ma parla me Eh, ho capito Ho capito, non è colpa mia Fra, io sono sceso e l'ho preso Guarda, guarda che non Eh, qua si sale, zio C'è il metodo per salire Solo che non mi sale Oh Che cazzo è successo Ma qua c'è arrivato in bocca al lupo Guarda, guarda, guarda Ah, da contro Che c'è, che c'è Vabbè, ce l'hanno con te In sta partita Mi serve un Mi serve un assalto, bro Il punto è che sciogliendo te Hanno avvistato anche me, mo, bro Amante Mi serve le piastre Vuoi le piastre a papà? Sì, sì, sì Ciao Non lo faresti senza di me Il problema è che stanno a camperà Colpi di cecchino c'hai l'ho po'? Forse Mo vediamo Torneo pubblica Oh, beh È pubblica, è pubblica È pubblica Oh, no Oh, buono Niente Bella, Omar Oh, oh È bruciato uno Grande, terramonte Oh, sì Oh, mio Dio Ne arriva un altro Ne arriva un altro Lo so, mi devo piastrare, zi Vieni dietro, vieni dietro Che fucia Mi sa che non c'è pusha, zi L'hanno pushato Vedete se c'è un hub questo Pigliatelo comunque Poi c'ho il bomba Eh, c'ho il bombardo io Ah, ok, ok Uh, ma potrei molestare legionaris Legionaris Minchia, fai la clip Domenico Cioè, fai la clip Poi Rimassi due contro due contro uno Credo Sì Perché C'è 17 metri sopra di noi Sopra il tetto uno Eh, lasciali andare Che gli tiro il bomba All'ultimo Sono tutte e due sopra Aspettare che lo tirano il bomba Hanno arrestato No, doveva aspettarlo A tirarlo Bravo, bravo Quello Però Parliamone Minchia, col bar M'ha distrutto Ok Ci aveva il bar Ci aveva Niente Non muore Non muore Bravo, però Minchia, però Brava, ma a me Ma ha squaiato col bar Si è messo lì Sembrava La calibro 50 Sopra Sopra il camioncino Dei militare Vabbè Hanno Boh Hanno i proiettili Non lo so La calibro 50 È impossibile Vabbè Vabbè Allora Là, bro Il bombardamento Te lo devi conservare Perché C'avevi anche te C'avevi anche te Bombardamento Non lo Ma non lo possiamo tirare Nello stesso momento Zio Lo può tirare uno solo Di noi Eh L'ho tirato io Primo È sbagliato Bro Perché c'era Gente in The quarter E gente sopra Quel bombarda Ci serviva Non lo devi tirare Vabbè 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 Ma sta disputa Si è sistemata Ma insomma Nel senso che Ho killato più volte I Raven Dell'altra parte E poi Se ne sono usciti Dalla partita Capito? Quindi non Poi non ci siamo Ribiacati più Quindi non si è capito Come sta storia Come va a finire Erano altri Quattro Raven Dall'altro lato Sto giocando A più a Rebirth Ah Vabbè Ti sei dimenticato Come si gioca? No Su Rebirth Ho giocato poco Pertutto Pertutto Poco Ah Vabbè Ti faccio un po' di coaching No Grazie Mi dissocio Da questi coaching Dai che Dai che per te Solo per oggi C'è lo sconto Vedi che poi Non te lo faccio più Lo sconto Buon pomeriggio Francesco Buon pomeriggio Caro Se vuoi ti invio la clip Di quando mi sono fatto Full team Raven Beh 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 Se c'è gente come Se c'è gente come Tramonte dentro Io immagino che tu faccia Full team No Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Chi 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 Ha fatto Full team Divine Oh Luca botta Oh aspetta No come Lupo bot 150 stelle E' imbazzito E' imbazzito Vergognati Dove ha fatto lui A chi ha fatto Vergognati 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 Mango di tico Grazie per le stelle Ah non l'ha chiamato Godo Ti ha scammato Il bot non ti ha letto Godo Godo come Edificio Edificio In costruzione Edificio Classico Legna Legna Stadio Tromba Boccali Di birra Boccali Di birra Alieno Elefante Roccia Uomo Con gesto Di rifiuto Uomo Con gesto Di rifiuto Che cacchio Vuol dire Mannaccia La misera Mannaccia Bepp Grazie mille Per 150 stelle Ah sei Mandre Ok ok Ah giusto Mandrevucci Giusto Io sono sceso Altrosa Diciamo che sono sceso Nella fattoria Quanto è rimasto Con quanto è rimasto Che cazzo Mi sa che è quello Che mi ha sceso L'ha fatto come il cane Fra L'ha fatto come il cane Ma chi lui Quando l'ha killato L'ha fatto Sì sì Vabbè La gente sta male Zio Ma Predator Chi Aspetta Ma quello che conosco Io che gioco Con me Perché ce ne sono Tanti Di predator E se è quel predator Che conosco io Che c'ha KD350 Non me pare proprio Che è impossibile Sottopriso Sono 4 Fra Un team Dei 4 Intero Anzi due team Perché mi ha sparato Un altro tizio Che non era con lui Due team Due team Sottopriso E niente 340 Di danno Zero Hai fatto Il lancio Orido Zio Pera Ah Matteo Vergogna Vergogna Si è predato Il fanboy Vergogna Non penso proprio Fra uno e uno Ti spezza Le ali Ti spezza Ah ma è crise Baffanculo Eh ma pure rubata No no Mi dissocio Mi dissocio Ma guardate che Questo che mi sta camminando Dove Ma che cazzo è successo Mi dissocio Da quello che ho killato Andate che culo Stavo andando via Spero non si sia sentito Quello che ha detto Mi ha detto una parola Bannabile con la N No No e dai Vamolo kill la me Bro La tara questo No la palestra Che schifo Con la palestra Con la palestra Ma che cazzo Stanno giocando Ma a parte che io gioco Con il chrome aperto Signori Da quella palestra Sto sparando Sta su Su un prison Con la palestra Tramonte Si opera Ma quanti colpi ha Un gasio Tramonte La messa a terra Vogliamo pusharli Li ripusciamo questi Un gasio Ancora Tramonte Ha fatto il giro Ha fatto il giro Qua a sinistra E ma ha scammato Eh se l'ho scammata Dai Vieni a pushare sopra Vieni a pushare sopra Io arrivo Andiamo Minchiazzio Lo so Lo so Pusciaci pusha Eh infatti sto aspettando Mi ha sunnato Mamma mia Caruso Caruso Niente Regà Regà È confermata Non posso venire Cioè dovrei essere safe Io dovrei essere safe No No Regà E non scendete qui Mamma Mamma mia Zio Ciao No Non me morite Regà GG GG Non scendete lì sotto Non scendete lì sotto Ti piace la mia idea per landing? Certo 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 Allora Praticamente Cris e rosic Praticamente Sì Mi piace tantissimo Domenico Mamma mia Tramonde botte Signor Ma 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 Questa Era Sopra Wey Wey Eyy Ah Mio Sopra Casa Tore C'è sta Gente Quattro Eh andiamo bene Quattro Sì 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 Arrivo Dai Cosa fa a destra Dai ha rotto le palle Vabbè Ancora Ma che schifo Sì Beh lo schifo Ma Quello sopra L'hai fatto Leggio Sopra di noi Eh uno L'ho fatto L'altro Serpentino E scappato Boh Prova da tirare una bomba Vediamo No Non c'è Ho visto Ok Eh Vra Io direi di andare sul priso A spaccare quel pezzo di fango Aia No Zio pera Sente me ne vado bro Oh si è puntato dietro Vado sopra Che ha buttato uno qua sopra di noi Sì Ma ancora qua sopra È in casa È in casa È in casa Che palle Vada da tre ore che giro Mamma mia come odio ste lobby Stai piastere bro No Cambio un attimo Uè buona sega Matteo Sanso Come va Come vanno Come vanno Le seghe Mi socio Non lo sta per dire Testa ben piattata sulle spalle Un'ultuale A volte mi incazzo Ancora quelli là Ancora Audio È sul mio tetto Ah no 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 È qua sotto Mannaggia la Tosca Tu cazzi di Marco Ma cosa sapevo benissimo che ero lì Ma Ma Posso dire ma No Chi chi Ce l'avete uno Eh Chi 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 bro Salve Salve Buonasera Ma il signor per la torre ancora in chat Buono fra Buono 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 Ma il signor per la torre ancora in chat Dai torno da te pure Sono perso le armi C'è un'altra La finestra C'è un'altra Buona La buscio io La buscio io No Non c'è Le munizioni del cieco Dimmi che il cieco Le munizioni No Qualcuno ha la munizioni del cieco No È ancora forte Il marco 5 Dai là Davide Ti va in moto in via Ciao Davide Buonasera Benvenuto Se oggi pure da parte Caron di quello che fa caldo Non ho capito niente No Viene di fine Eh Purtroppo sì Zio Purtroppo sì No Le munizioni Dai dai Mi serve il cecchino Bro Vabbè Facciamo così Ho trovato una carabina E davanti Davanti Lo può Qui a destra Parti Oh Uno si è buttato qua fuori No One shot Ma mi deve spiegare Come ha fatto Come ha fatto Qui sotto Pacazze di Marco Troppo forte Assurda Assurda Ma ha sciolto Prima di me Bella Francesco Buona sega Buon pomeriggio Che gente Ah questo ha preso L'elicottero Fra Ehi Ma Ma che ha fatto Ma che ha fatto Quello Non è normale Zio Quello che ha fatto Sopra contro Sopra contro Eh Quando mai Deve uno scende però Deve uno scende Chiude uno Si sono buttati Oh la macchina Ad avanti Zio Non mi fa Dentro Destra Destra Eh zio Deve ho sotto la mano No Cecchinato da qua Niente Finita No però Deve vedere un attimo La cecchinata Che mi ha dato questo Io un colpo aveva Manca No 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 Non è possibile Fra Questo Leve lady Like Questo qua Mi ha visto Ne ha visto tutti Quattro Ci ha sparato No no bro 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 Questo me sa Che non è normale Col cecchino Mi ha fatto Una kill Impossibile Aveva mirato All'albero Io ero Dall'altra parte Ero un po' più Dispostato Ha sparato Sull'albero Sono morto io Devo far vedere la cliff Se no non ci credi Ha sparato all'albero Sono morto io Beh signor Robert Di Activision Che significa questo Eh rimbalzato il colpo Certo Wanted Mannaggia Miseria Mannaggia Ambita Divine Che sta piangendo Un attimo Assente che Laurent Ha mandato l'immagine C'è qua il quadra Che non cosa Io la voglio rivedere Beppe La voglio rivedere Al VAR Sinceramente La voglio Rivedere al VAR Senti Non mi appare On Divine Mannaggia Uh Roby Girl Signore Roby Girl Si accetta Beh forza Come minimo Roby Girl Si accetta Cioè dico io Allora Vediamo se adesso Eccolo qua Divine Mannaggia Vediamo se lo riesco Ad invitare Che fai Non lo accetti Roby Girl Accetti Non me lo fa invitare Travande Ok No C'ho la soluzione Come invitarlo Cambio il gruppo Del reggimento Che dovrei Veder l'onda Qua E invece Non ci sei Nel reggimento Divine Niente Tentativo fallito Tramonte Non c'è Ma inviti Divine Ah ok Ora ti vedo Ah ti ho invitato Mamma mia Se gioco tre ore A volte si blocca Sono rimasto Con il tarallino In mano E ho detto Minchia che cecchinata Eh pure io Fin quando non ho visto La 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 Killcam Il replay Vedete Oh Purtroppo È entrato Divine È entrato Divine Purtroppo Fra che dobbiamo fare Mio Dio Senti come si chiamava Quello fra Da computer Bro Da computer Io lo segnalo Per sicurezza Zio È da computer Quello che mi ha fatto La cecchinata Cioè il proiettile Ha curvato bro Ha sparato all'albero Ha beccato me in testa Bah Ma tu l'hai vista La 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 Kill Hai visto il replay Di quello che mi ha cecchinato Sull'albero Sono morto io Io lo segnalo Ah per sicurezza Lo blocco pure No perché fra Quella è dubbissima Quella kill Dubbissima Ma proprio Dubbi al Al cento per cento Cioè roba che Andrebbe rivista O se è buggato Il gioco O usa qualcosa Perché non si spiega Cioè io Se non sparo Dritto per dritto A un nemico Tutti accendo colpi Non vanno a terra Poi lui spara Un colpo sull'albero O muoio io Basta una sola volta Ma guarda Sai Io Per scaramanzia Segnalo più volte Poi Poi Quello che succede Succede Poi bannano me C'era vento Ha spostato Il proiettile Questo è bello Fanatic Paraurti Ma fanno anche Para Ghoul Che? Oh un ghoul Ma quale ghoul? Allora Ma è paraurti Ciao Paolo Buon pomeriggio Eh vabbè Buongiorno Io sto facendo 260 fps Normale Non ho mai fatto 260 fps Oh 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 Maronna Faccina Senza bocca Nebbia Faccina Con bocca Con cerniera Faccina Travestita Faccina Congelata Unicorno Lupo Patata Bottiglia Staffata Bottiglia Staffata Brindisi Amfora Statua Della libertà Torre Di proprio Fultana Discovolante Razzo Satellite Interessante Molto interessante Poi Faccina Storpiata È la più bella Ti stai divertendo Con bocca Eh Bezzo Grazie mille Per le 150 stelle Lupo Ma visto che non ho mai Nessuno Dove sei Di Taranto No Sono di Napoli Per chi Non lo sa Se non Ma felice Qualcuno Vende Crede che sono di Taranto Ciao Lupo Napoletano Ciao Loris Benvenuto Che c'è Arisa Ho chilato Arisa Ha detto Arisa Ma io non ho manco visto Sgarago lo conosco Ho beccato già Sono tre sotto Sono tre a cucina Ah non so Non bagni bro No 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 Cucina 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 Sì sono due Eccolo qua No sgarago lo ha fatto legge Club blick Se non si ha perciò Fai Era un altro sotto Ai bagni Uno si è restato sotto Mi sa Oh non l'ho visto Oh non l'ho visto Mica Zio Se sta restando Div Un'altra Un'altra Ancora con Il bugetto Non c'ho le piastre Divine non parla Divine? Dimmi Ah è rimutato Ma che sto Mi sento bassissimi Tu vuoi andare a sbordare Alza 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 Il type 100 non lo sto utilizzando al momento Mi piace No 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 Due 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 Come va normale Chi? Dove? Il silo Se ragazzi Il silo Plastera Cheater Lo vogliamo far scendere al silo Aspetta aspetta Guarda guarda come scende al silo Vediamo se scende al silo Su con l'elicottero Mi prendo Quel puntaggio Si 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 È strano Colmire di Ma io lo becco sempre Su colmire di Oh esce da st'elicottero Mi stanno alla sera Zita È sovrappreso No 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 Sono morti Sono morto Sono affacciato a tutti i lati Si bussia Che stanno a trovare i cheater Ora ritorno con la webcam Rega solo che Sto con la puzzetta Ecco Allora bella tartaruga Carmine Buonasera Dovevo fare il lancio Rega Gente sul mio piano Gente sul mio piano No 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 Sto con la scena Di contramonte No Ho giocato Voi da dietro Bravo Bravo M'hanno fatta panino Uno davanti e uno dietro Non si addia a te Ho capito non si addia a me Mi cadono la mozzarella del palino La mozzarella del palino E in carrozza mi hanno fatto No è una mitraglietta al type Ok Non ho fatto la dieta No Ha pushato un altro da prison E quanto ci mette a più l'arma Calma Mi servono anche piastre C'avete uno sul Piastre Arisa di nuovo arisa Ma mi sente Lo senti a di va entra mo No No non ti sente fra È bugato È bugato l'audio Madonna non mi stiamo prendendo il paracadute Uuuuh Mio dio mi hanno sparato Mamma mia che lobby Vai a terra Vai a terra bro Uuuuh Uuuuh Aspettate Aspettate Devo chiudere un attimo Devo chiudere un attimo Mi sono dimenticato Di chiudere google chrome Ehm Zio per Zio mi ha fatto Sono 6 Non ho qui Aspettate che è successo Ok ci sono E' un wallbanger Si è rega però Ah ma zio non siamo tornati a lancio Anche c'è la riguardo Siamo tornati A terra con la lancia Grazie però Non ce l'avevo colpi Guarda Sono tornati a guardare Ok ho confermato finalmente Quello che ho mai chiamato prima Ho fatto C'è un po' armi Io stavo giocando con le armi di questi qua HDR Tento passi C'è ancora gente fra Oh ma hanno aperto la porta Gli ho alleggiato E' un po' di via sta Ah la puzzetta Ma ha tirato Ma ha tirato la puzzetta Tutti i colpi Sta arrivando un botto di gente Zio non ho le piastre Chi la messa è qua No non vi pigliate Io io Prendilo po' Se ne è presa della mondo Io perché Mi sono qua una Madonna Ah mamma mia Questa parte già sto capito Andiamo sopra Intanto siamo ancora a 24 Però in lobby Cracato Non da te Vai Forse è salito sopra In the quarter Salito Salito Saliamo in quattro Sbacchiamo Andiamo andiamo Oh vabbè sotto l'ha fatto Andiamo 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 Non c'è non c'è non c'è Se no dove è andata in the quarter Cioè poi se ne è sceso L'ho fatto io rega Era quello sotto Eh lo se ne è sceso No 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 Torre Sopra te 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 Ma io c'avevo anche guardato Non c'era Eh lì Eh lì Eh lì Ah e soprattutto Eh vabbè Ma mò lo tiri giù da là C'è un grappolo C'è un grappolo se volete Prova tu Nella casa Dai Vediamo se contro Non c'è nessuno Ma butta va Ah dai Ah ma tanto grappolo Non gli fa nulla Rimane sopra Ma rimane sopra Come stanno tutti a camperare Penso tra Living Stronghold Control Quello sulla torre Oh non c'ho colpi Vabbè no Di assalto ce li ho Mi mancano quelli della mitraglietta Ne ho due caricatori e basta Mi mancano entrambi Vedete che sta ancora sopra C'è questa munizione ragazzi Venite 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 che lo lancio sotto Bravo No Zì Chi me la rubava Scusami Madonna mia Che povero Povero Sopra 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 Ah ma quello è ancora in buono Non lo prendi Qua raga Qua dove? Nuova Eh ma resta lì sul tetto Bombardamento da quello della torre Ma dove l'ha tirato? Uff Dalla torre In volo in volo in volo in volo In volo in volo Paolo Brocio No mi dissocio mi dissocio Mi ha tirato un bestemmione E' entrato in casa? E vabbè da living mi ha distrutto Sì Ci avete piastre? Un pomeriggio Davide Ha detto l'orto mio? Bello l'orto No 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 Vada dietro Aspetta L'hai fatto? Eh Tantim Uh Pensavo che era tramonte Eh Non ti dico Sì 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 Guarda me T'ho salvato zio Gua non puoi capire come t'ho salvato No Anche la diera Non 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 Sì che sta pushando Ah ok ok Oh volevo restarli C'è la maschera Restarli in gas Mo' ce provo Però mi servivano anche i tuoi Come è stata? Sì Prema la figura Eh Boom Ma dove ti ha sparato zio? Ah al tetto l'ho visto Da sopra Sì sì sul tetto dei living Ce l'è qua tipo Non saliamo Non saliamo troppo Staccato qui Siamo tre Siamo tre Tre v v cinque però di vari team diversi Possiamo anche aspettarli Quello sul tetto bravo Salsiccia arrostita Salsiccia arrosto Uh Mamma mia che scammata Non resta più nessuno Barbetta Enzo forever Siamo tre di due C'è quello Sopra 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 Non c'era nessuno Mi sa che ce l'abbiamo sotto Sotto di noi Trovamo Eh stanno tossendo Salsiccia arrostita la data Ma dove è l'altro? Da lei lì 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 Come hai fatto a girare laggiù? Vabbè ma saranno morto il GG Paolo bro Let's go Finalmente La win Lo porto Che cazzo l'ho fatto a quelli tre Lo porto io Ciao Giacomo Quelli tre hanno preso il biscotto Pomericcio Biscottone Da parte di Tramontone Barbetta Salsiccia arrostita Paolo Brozio Salsiccia arrostita E così si chiama Salsiccia arrostita Paolo Brozio Sì Sì ma io vorrei capire anche Arisa Metti Metti Mozzarella Dentro due bani Oh via Mozzarella Oh GQ Thank you very much for the like No way bro E vai con la prossima allora Ah bella Salsiccia arrostita Il ventilatore Fammi vedere se hanno caricato tutti No Io e Divane siamo gli unici Che carichiamo primo Ok adesso vede caricato tutti Complimenti 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 Si vola Il mio amico è stato shadow bannato signori Quindi si gioca nelle lobby shadow ban No non io era stato il mio amico shadow ban Eh ho capito che è stato il tuo amico Sai che non A me non è mai capitato di giocare con qualcuno shadow bannato Non ho mai capito cosa si prova Bella walk hai visto eh sì perché walk si ha fatto una challenge l'altra sera tipo non mi ricordo era se Dovevamo vincere la partita e poi non mi ricordo si dovevamo vincere una partita E ha detto se vinci una partita mo praticamente da partita adesso entro tre partite faccio la zab abbiamo vinto una partita E gg Mi sono sparato 12 kill Mi sono sparato 12 kill when I was young Sei 41 Ok 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 Mi dica signor che fai 21 41 51 18 12 18 15 Sì Io ci vedo che Descerrò Sì Sì Questa in questa game vedi vedi vedicendo solo la verità io pure il suo dicendo solo la verità zio when i was tramonte i don't know when i vedi per cantare quella canzone è la secola canzone però gli mettiamo il nome tramonto in mezzo spoiler spoiler tra molte presidenze non siamo vede potuto tra le altre un giorno due figli o c'è uno di cose con il cecchino però qua è quello dietro no che mi ha rubato mamma mia Io spero Spero ovviamente Divine che Che torni a giocare Con la Playstation Sì ho mai rotto le scatole A rubare i kill Il zio di Vine Che ruba Mamma mia C'era la scammata Peggio di quella Che mi ha fatto adesso Non l'avevo mai vista Dentro dietro dietro Che caccio stava facendo Versace Dentro dove? Dentro peso Dentro peso Ma dentro dove? Sopra Sopra Versace Ma è più di Antonella Versace Allora sopra Allora lupo Ciao Antonio Che è successo Che è successo Laurend Ma c'è gente sopra Gente sopra bro E gli ziti Faccio con la pistolina Faccio con la pistolina Poi c'è uno che cammina lì Faccio con la lancio E lancio C'è gente sopra prison Sì E ha finito le moni Per ora di tutte e due Le lancio Arrivi Ora bella merda Fai lancio T'ho detto C'è gente sopra Qua 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 Ah Versace Versace Bombardamento Ci hanno tirato da Decon No way bro Lo stas Dove la porcione No Eh no Non sei fluppetto Fluppetto Vieni a darmi una botta Nel culo No 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 Mi so No No Ve prego Clippala No C'ho E' Clippala C'è Impazzito Vieni Impazzito Amore Impazzito Vieni Impazzito Aspettavo Un dito O qualcosa Serve Una piazza La ragazzi Ebrei o Gio Fai la clip Io questa La pubblico MINGA Ha fatto la clip ZAMU Impazzito Cazzo ZAMU No Mi di solito Ma c'è uno sotto Comunque Ok Hanno fatto I foghi D'artificio Non l'avevo visto Quell'altro a terra Oh ma stunnato Ma stunnato Eh peccato che c'ho il pad Zio Facciamo questi qua sopra Raga Dentro 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 lì Dentro 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 Stavo con le mani impegnate Che stavi facendo Bro Non lo sapevo MINGA Mi sembro predato Adesso Quando pusho Oh L'ho smirato Eh vabbè C'aveva le munizioni Quelle lì Nebula Lui Fra Cioè Però Solo a me Non mi funziona La mira assistita Da pad Sembra che gioco Con la mouse Dai Ho capito Morite tutti Rega Morite tutti Ah no Fra Siete morti tutti Eri rimasto da solo Metti anche un fortune Metti fortune No no Metti fortune Metti fortune Dai 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 Facciamo un fortune Una fortuna Dai Fai una fortuna Zio Dai 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 Allora Stavo con le mani Giravo una Ah ok 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 Sì giravi proprio quella Fra ho capito che giravi Giro nel parchetto Ma che smirata hai fatto lì lupo Scusami Eh ho capito Non c'ho i cheat C'hai lime assist No fra Sulla blix non ce l'ho lime assist Non mi chiedevi perché Ma non funziona lime Solo a te non funziona Ho il pad Che funziona al contrario Solo a me Non capisco perché non mi funziona più Lime assist Oh è il pad Bro A me serve il pad Di Di batman Zio Per forza Allora il tuo capo È da Officina del pad E te c'hai il pad Di merda Che socio Eh sto aspettando che me lo regala Che lo regala Ma comprati Adesso devi trovare anche la partita Eh eh sì Purtroppo Fortuskip ci mette un po' A trovare le partite Prondo Prondo Chi è Prondo Sono Che napala Paisa Eh bro Il bot Ha messo il link Io lo vedo Non so per quale motivo Lo vedo Bloccato Ma si vede il link Io devo levare la cosa del Si vede il link Che ha pubblicato Perché a me me lo fa vedere oscurato Non so per quale motivo Secondo me devo cambiare una Una roba Ciao Sono tramonte Sono proprio Un bisonte No No Ecco No Mi dissocio che questo Mi sta a perdere qualcosa di bruttissimo Ma in realtà Tramonte L'hanno chiamato Orsacchiotto Tramonte L'orsacchiotto E poi ci sono Io lo chiamo Tramonte Il bisonte Oddio Oddio Ho creato uno Ciao rubi Ciao gerardo Buon povericcio Vi faccio a tutte e due E' un'orsacchiotto E un'orsacchiotto Mi ha metto nel No Pago il culo Pacco bottiglia No Vabbè Ma perché lei è sempre così Trasgressiva Ah lo sapevate che Netflix Ha appena tirato fuori La serie tv di Resident Evil Io ho già finita Posso spoilerare Dai 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 Non ti permettere Fortune Fuck a gear No Giovanni Non è vero Però dopo facciamo un re birto Buonasera F7 bear Wow Che periodo Che tempi Attenzione Viva il bot Pep's bot PDF Azzivine per 115 stelle No No mi romperà le scatole Chi l'ha questo Piuttosto Bravo Viva il bot lupo Rangotando Curilla Scimmia Naso Maiale Foglia al vento Purrido Sanod Vaso di miele Bicchiere Tumblr Camp Usa Vanno Da nostra Trattore Nave Da crociera Campanello Da un bel orologio Famiglia Mannaggia Mannaggia La banana Mannaggia La banana Cosa fai Eh si è buttato giù Eh ovvio Eh ho capito Io non c'ho la mitraglietta Sì È dio cane Ah no Mi dissocio Ho collegato ora Ci sei cascato così Ci sono cascato Di nuovo Pensi sia un gioco No Vabbè Io l'ho detto come Eddie Come nome Eddie Orana Non l'ho letto insieme Mamma mia Mamma mia Cosa ho fatto Tra Tre lì Sopra lì Ho fatto uno Hai detto Hai detto le parole Lupo panabile Tre volte Ma non Ma non è vero Ho detto Eddie No hai detto No Non l'ho detto Oh ed è un nome Si chiama Eddie Il cane Eh non ci sono Oh Però c'è gente Sul lancio Ragazzi Guarda franno Porta di fusturare Aspetta Dopo vengo io Io sono safe Detro un muro Aiuto Bra Siamo bloccati È come Baghdad È da dietro Porco demonio Porco No Entra Entra C'è Baghdad fuori Manco un lancio Sono riuscito a pia Manco io È È Di 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 The dog In realtà Quello Capila Scritto Perché Dovevi dire Ancora Esco E ci sono Quelli Che spazio Che è finito Il lancio Qui Che non ce ne Sciappigliate Preso Un'altro da me Raga No Dove 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 T'ha fatto Oh Mio Dio È Sopra di noi Divine Uno La partita sta mettendo Alla prova La mia pazienza Crackato Divine È crackato Divine Questo Forse Mi sa Che l'ha killato Sì Non riesco a trovare mezza persona I pochi che trovo Mi sparano in tre Guarda 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 Ancora su quel tetto Sio Che sta camminando Sta facendo il piccione Della guaglia La guaglia del piccione L'altro è su quest'altro tetto Sio Guarda Guarda Ok Se posso Salire da qua Ma chi stava sparando Ah Oh 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 Che laseratama dato Se mi dai soldi Faccio un UOV Eh zi Dai altri tetti Stanno a fare Assassin's Creed Dammi qua Prendi Mannaggia Eddie Mannaggia Come ban per l'uomo Mi dissocio Vale 3 qui Stanno ancora su quel tetto Quelli Quanti là c'hanno fatto Quanti là c'hanno fatto 3 qui 3 qui 3 lì 3 qui 3 lì 3 3 18 3 18 Un giorno Energy Niente fritto l'uovi non si sa più dove stanno Però provo a pushare da questa parte Ah sono ancora quelli Tartarughino Al momento no Comunque ti è scaduta la sub Tartarughino Un frate Ma un Luigi Manzo Luigi Manzo Io fino a 80 anni Le ricorderò il debito che ha con me Magari quando ne avrà 80 Mi potrà Dalla pensione Mi potrà dare Qualcosa No 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 C'è ancora Per l'altro, per l'altro davanti Incazzato Vabbè è normale Ha perso l'1v1 Oh c'è un altro da tramonte Che sta restando, tramonte sta restando Ha busciato, ha busciato Gigi Bartoleon a terra Bartoleon E' vero cattuso pure c'ha 1200 euro di debito Un bel momento Lui sta Signori, io ho crediti con troppe persone Cioè, dovrei iniziare a istituire un po' Equitalia Buongiorno, Filippo Buongiorno Beh, in realtà sono le 17 Da quello dove è passato No, due, due, crackati qui, da destra Eh, è arrivato Divine Eh, è arrivato Divine Eh, è arrivato Divine Niente da fare Tutti e due quelli là Ma porco No, no No One Non c'ero io Non c'ero io La monte La monte Aspetta, questi stanno facendo alpinismo qui sopra Guarda Mannaggia tutto, no Volevo essere segnalato Che cazzo l'ho fatto a quello in quello in colo Oh, povero Dai Ma non lo so, gli sparo io in volo Pusho io Li fanno loro perché vanno da loro Vabbè Incredibile No, in realtà sono io che vado da loro No, no, no Loro sono venuti da te, zio Io da mo' che li stavo sparando No, no, io l'ho pusciato Eh, vabbò Cosa c'è? Non c'ho da io Ah, bravo Aspetta Oh, no Guarda, guarda La terra, c'è la perla Scarlett, John, John, manso Gioando Bella Oh, almeno quello Fino a me ne l'ha data What? Vabbè, regà Sarò sulle tradi Oh Oh Oh, no Ha aperto il paracadute Eh, vabbè Sì Guarda chi m'ha fatto Guarda chi m'ha fatto In Inghilterra sono le 16 Facciamo un buon pomeriggio Non ne parliamo più Eh, vabbè Beh, se sono le 16 Comunque la fine Siamo in pomeriggio Eh, signore It's the deal time Oh, che cazzo hai fatto di me Ah, the deal Ah, che cazzo hai fatto di me Ah, ma se sono che non puoi c'è Eh, che cazzo hai fatto di me Ah, che cazzo hai fatto di me In mezzo a un po' di persone Non so perché Ma ho delle visioni Fra Secondo C'ho delle visioni Sì, sì, sì Arrivo, arrivo Ho delle televisioni Guarda, guarda Guarda, zio povero Ha pushato un altro del carrello Ha pur restato Incredibile Un altro ha fatto il giro da me Divine Eh Ecco qua Giusto Giusto Perché Eh, sta arrivando pure uno Sal cielo Ancora Scarlett Gioanzo Zonzo Wow Bocchi Ermeressade Gigi, grazie Lascia il solde allo shop Lascia il solde allo shop Vai La, lasci Da die Ah Vai da, vai da Miau Uno mi sta a fare il giro qua, qua sotto Uno è qua sotto Uno è qua sotto Ma cazzo è Eh, non riesce a restare G E l'altro, vabbè, lo sai dove L'altro era intorno L'altro è qui sopra Da me Sì Perché sto prendendo Una mano Se c'è la maschera Prima mi fa prenderla È scesa È scesa Eh, ho notato che è sceso Sì Ma dove è andato Ah, la divine Ma come ha fatto il giro di là No Ma non l'hai manco craccato No Mamma mia Come ci stai more Eh, ho capito Pensavo fosse one shot Pensavo fosse L'avessi lasciato one shot Minchia Manco un colpo Gli hai tolto là C'è No Perché ha fatto il cambio di finestra Ha fatto il cambio di finestra Pensavo che l'avessi lasciato one shot Però Ha detto Vabbè, mo gli sparo senza mirare Sai Eh Ha detto Vabbè, che cavolo Infaita divine Almeno l'avrà craccato Sarà rimasto proprio con pochissimo Ho detto Spariamo senza mirare E invece col caccia Con tutta la vita GG comunque GG GG Eh, vi scappi Abbiamo vinto il fortuna Schippo Beh, lì ho I due game Bravo 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 Pronto Pronto Eh, ma io ho sbagliato Che ho sparato senza mirare Stavo facendo il coglione Perché divine Non mi ha detto Che non ti aveva Tanto manco una piastra Sto bot Lancia la miseria L'ho detto Vabbè, sarà rimasto one shot Lo so Lo so GG comunque GG GG ragazzi GG No, ma infatti Eh, ho capito Non pensavo che avessi tutte le piastre Sono arrivato là Sono sciolto Non pensavo Zio Pera Vabbè, GG ragazzi Bella raga GG Allora Mancava un soffio E mi palso Neh, sono crashati gli altri Bro Non è che sono crashati Devono caricare No, no Sono crashati Mi ha dato che sono andati fuori Zio Eh, invita a leggio 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 Coso Invita a leggio Gigi D'Alessio Eh, non so chiamarlo Bro Legion farm Come lo vuoi chiamare? Leggio Avanzo Fio Zio Pera Però c'ha ragione Mi ha lasciato con tipo Dieci di vita Quando mi sono accorto Quando mi sono reso conto Che non andava giù Perché aveva tutte le piastre Un po' Ho iniziato a trefare Eh, no Buongiorno Ha staccato Ha staccato? Sei proprio sicuro? Sicuro? Sì, sì Ma se non zio Pera sei Vai corre Quando dovevi che passassu Coramiva Sembra tututututu Sembra tututututu Tututututu Non commentare quello che commento io Il socio Mi cazzo c'ho Senti gradi fanno oggi Eh? 36 gradi Percepiti 38 Let's go Ma sei sicuro? Sì Ma Ti devo dire Vi devo dire Ti devo dire Io ne percepisco C'ho il condizionatore C'ho il condizionatore Quindi Secondo me ci sono tipo C'ho il condizionatore E sento caldo Io c'ho il condizionatore E sento freddo Marona Ancora sto cane Pronto? Pronto? Niente Continua ad esserci il cane Signori Sto cane Ogni tanto Si sveglia sempre Quando ci sto io In live Incredibile No zanna No C'è di nuovo Zia Melania Zia Goffo Melania Signori Buonasera Fabio Buonasera Fabio Caressa Benvenuto Zitto Silezio Silezio Oh mamma mia Ma non posso Allora Allora 15 secondi 14 13 12 Si parte Come no Zia Melania Non sei contento Eh Si Come mai sei entrato nel pomeriggio Ah Come mai sei entrato nel pomeriggio Perché non avevo un Scotto da fare Mi dissocio Mi dissocio No perché in realtà io sono svegliato alle 4 e mezza di stamattina Avevo finito un po' di cose a luna Poi vabbè Sono andato a mangiare Ho fatto un po' di cosette E anche io Mi stacco Vado a mangiare Vado a stare un po' E poi ritorno stasera Ci sei dopo? In teoria Se non crollo C'è allenamento stasera? Ah No è domenica Anzi Però Che allenamento C'è stasera poi? Eh Perché noi siamo un team esporto Dove nemmeno pagati 3.000 euro al mese Quindi ci fanno allenare Vabbiamo Abbiamo Oh Questo mi è entrato da dietro Ho sparato Sì Gigi Grande Tramonte Che muore insieme a me Eh non c'avevo altro C'avevo quindi Abbiamo il manager Abbiamo il preparatore atletico Oddio Ho vincito nel padre così Sì Ci avete anche la stanza dei gamers Come abbiamo pure la massaggiatrice Anche Armando Gattuso Gattuso fa i massaggi No scherzo Però Scherzo Scherzo Però ci sono alcuni team che veramente Oh No ma pushato Sono morto Mamma mia Eh Eh Segnalame Segnalame Scannatope si chiama Non mi ho fatto un altro Vuoi farti delle gare Da zucchina Oh mamma mia Prattina Eh One Merda Non mi ho fatto Sto rotti via Dove Oh Ma no Chi l'ha visto Non l'ho visto Te lo giuro Non l'ho visto Non l'ho visto Se non l'ha visto Non l'ha visto Però Si era mimetizzato A terra Ma chi l'ha visto Sì Sembrava anche un corpo Se non poi no Se non me lo chiamate Se poi non me lo chiamate Che non so Che ne hai messo una terra Allora Tutti Tutti Vedono sopra Il lancio Mannaggia loro Che hanno messo Le skin Scure Te che te Fate il lancio Anche voi Eh Come faccio il lancio Oh Ti basi E fai il lancio Troppo I soldi Troppo I soldi No Lugo E questi Continuano a spararmi Bro Mannaggia Ma C'è le armi Quello Continuano a Ti fa il lancio Ti dico Che Ma 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 Bravo Io Bravo Jiu Jitsu Jiu Jitsu Jiu Jitsu Te devo chiamare Ah Madonna Mio Poi Vabbè 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 Dove Stanno Qui C'è Lui Ride Sono Tutti Sul tetto De prison No 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 Devono Assolutamente Mettere Le classificate Le classificate Il zio Perché Me sto Per rompere Scali Eh Jiu Jitsu Starmiamo No 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 Aiuto Che cazzo Ti ha fatto Aiuto C'è un altro Qui Ti devo dire Ah Avete visto No Che metteranno Le classificate A breve La prossima stagione Bene 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 Un uvacchio Non oso Immaginare Oddio Mi Mi Dissocio Eh One shot Peccato Che l'amico Tu sta sotto A guardare le pizze No Spero Non m'abbia visto Che fai Usci Fra E poi Ti fai E lui Sto l'ho pushato Fra Stavo con altri Ingaribili Ho dato con un altro Fratellino Ah qua FB normale Non ti arrivano i commenti Che senso Non mi arrivano i commenti Che dammi una mano Io stavo fightando con un altro Ah quindi Ah ma quindi Non ha funzionato Il moderatore automatico Che toglieva i link Bro Il link È riuscito a metterlo Comunque Questo tizio Oh io ho messo Il moderatore Che toglieva i link Zì Non funziona Praticamente non funziona È che l'ho messo a fare No Va Vabbè Potrei fare Uav Francese Era incazzato Francesco Pets the fang Chi è suo pdf Game Sul link Comunque No Non l'avrò letto Probabilmente È sfuggito Nei messaggi Ah Era uno Scacco matto No Vittorio Brumotti Ah sì Proprio così Ziotano Wow Volevo andare a scoprire L'era si è guardato lì Ancora Vittorio Brumotti Non riesco a metterli a terra Confermarli Bro Guardando che c'hai problemi Eh c'ho problemi perché se restano sempre Quella Quella bomba L'hanno pensato Assoluto Facciami la 200 Basta E' ancora lì Sì Sono ancora là A terra Vittorio Brumotti No no C'è l'amico dietro Che è baghillato Mannaggia Ho messo uno Ho fatto Alla una a terra E non voglio andare a terra Chi la sto Brumotti Dai tra la monte Vabbè in pratica Ti ho detto a chiedere La giocchina di farti Ah Ma l'avevo letto L'avevo letto L'avevo letto Sì Un altro Ma qual sono No L'ultimo L'ultimo Bro C'è l'ultimo Grande Questo Questo qua Mumafish Quanti chi c'ha Eh una Zio Vabbè sbaglio L'ha fatta una C'ha 14.000 Non ha speso un soldo E E nulla Non si sta guardando La partita Bro Ah frate ma Ma frate ma è che La scuote Dicevo amministratore delegato Dezzi È impossibile Proprio è impossibile Ho detto che uno che si chiama Mumafish è un bot Oh non mi piace la blix è mia acqua a terra Che no Sì è questo Questo dovrebbe essere il mio Io non so se questo è il mio Lui fa lancio fra Guardalo Fai wav cretino Fai wav cretino È stato bellissimo Come l'hai detto Poi Fai wav cretino Guarda La cazzo No Eh unlucky bro Unlucky Non te posso restare Sbaglio speso i soldi No Mumaf 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 Rest Ramond Quel bot Ho finito Ho finito Ho finito Ho finito Ho finito Let's go Dimelo 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 Come on bro 6.000 6.000 6.000 6.000 Dove vai? A mangiare A quest'ora Sono le 6 e mezza Dove vai a mangiare? E c'ho fame Mamma mia Ma vedi che sei proprio Un 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 orsacchiotto Non ho mangiato oggi Ah no? E vedi Fai un po' di dieta Ti fa bene Sì Fai un po' di dieta Faccio Ho mangiato io Ho mangiato io Oggi Ho mangiato No Ho mangiato le No lui sta in Romania Lui sta in Romania Sono le 6 e mezza Vabbè Vabbè Ciao 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 Da lui sono le 6 e mezza Perché sei in Romania E Capun Io ho mangiato Le cotolette Con la mozzarella Sopra Un po' di pomodoro Mamma Non sai manca usare Non sai usare nulla Fra Mo ti Ti Capito Eh sì sì Buonanotte Ah buonanotte Allora Ma del team Allora c'era Werdingo Che poi mi sa che è andato a lavoro Ma io non c'ero Quando mai mi dava Werdingo era il fratello C'è Tex No Werdingo Ah mi dava Tex No Werdingo bro Stava giocando con Error Un altro nostro amico Prima c'era Mo forse sarà il fratello Ma prima era lui mi sa Credo A meno che il fratello di Werdon Non stesse giocando con Error Non l'ho invitato Spaventapassere Cioè Mi piace spaventapassere Allora Stiamo sperando Trovo il nostro team Luis Eee 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 Ma sta entrando nel gioco O già c'è La start Aveva di sperare il tempo Per una partita La partita L'ha startata No dai E fallo Che se ne faceva un paio Dai fallo Fallo entrare zio Fallo uscire Se ha startato mo Fallo uscire No l'ho invitato Deve entrare lui Eh l'ho invitato L'ho invitato Scrivi sul gruppo Scrivi un po' sul gruppo Ma guardingo Ma guardingo quindi è lui o il fratello Allora lo invito Uè Boki No no Bella UIN No 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 Oh Godo Godo Non ha letto l'emoticon Mua Fa muc No Allora Ho provato a invitare Wordingo Vediamo se viene subito Godo Scammato l'emotico Godo Grazie mille per le 115 stelle Comunque In partita Bruno sta venendo Zio Però va bene dai Magari viene dopo Godo Io c'ho fame comunque Mannaggia text Mannaggia Mi sta venendo fame Che vuoi Che vuoi Lupo Che vuoi Sì è un euro avanti In Romania Niente Niente Io te devo Te devo spaccare tutto Dio Dio Così proprio Non lo so Mi dai proprio La sensazione Capito Degli schiaffi No mi dissocio Eeeh E nulla E nulla Dopo controllatemi Un attimo Se Wordingo scrive Perché io c'ho il telefono Sottocarica Vorrei andarmi A prendere qualcosa Da mangiare Non so cosa prendere C'ho Una vasta scelta Allora Calamari fritti Eeeh Poi che c'era Eeeh Il riso Con gamberetti Cozze Bla 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 Poi c'ho invece Orecchiette Anche orecchiette Con Mi pare Pesto Pesto E mozzarella Eeeh Eeeh E poi E poi E poi Mi pare Il polpettone Pure Non so che mangiare Esatto Il frigo del bagno Se no c'è C'è il prosciutto Oh se no c'è la cioccolata Wow Oh sei nel prepartita Zio Non ti giochi 20.000 euro In prepartita Ma che arma ha Ma è rottissima Zio C'ha l'SVAL Con Con gli occhi incendiari Orecchiette Che non è con orecchiette Ma perché Mi ha disci tutti positivi O no Eeeh Vedi zio Che secondo me Devi andare all'asla A dire che tu sei Sei la cura Al covid Non lo sanno Nessuno lo sa Ma tu nel dna C'hai la cura Per Per il covid Sei immune Devono estrapolare Devono estrapolare L'antivirus Da te Devi diventare L'eroe mondiale Mi dici Guardate Ho provato Mi sono abbracciato Con tutti i miei amici Che sono positivi E io non mi mischio Adesso potete fare Potete fare Fare il vaccino Dal mio braccio E in cambio Ti fai pagare Un milione di euro No Mi dissocio E te pareva Guarda che ha scritto Ritorno Ristorante lupo bianco Se non ci vieni Sei un pezzo di fango Fa anche rima Oh questa me la devo salvare Oh il ristorante Lo voglio aprire Ristorante lupo bianco Oh lo chiamo proprio così Al cameriere Quando ti dà l'inbenvenuto All'inizio Quando entra il ristorante Ti fa Ristorante lupo bianco Se non ti siedi qui Sei un pezzo di fango Oh I cazzotti Te li devi mettere Sai dove i cazzotti Però ha fatto una bella giornata Ah però ha fatto il movement Però ha fatto il movement Un movimento di merda Capito? No io volevo stare nel cile Sta parte Niente zio Primo piatto Baccheroni Nella BDS E con la NZ Però È un po' dura Eh giustamente Non c'è un'arma Non c'è un'arma zio Non c'è un'arma Aspetta Don't ride this at home bro Oh Ma qua non c'è sta il coso Qui madonna Non c'è il carrello bro Con questo Dove sta Oh Oh ma che sei impazzito Dobbiamo fare il lancio bro Ma è un f*** Che di me Eh se venite sopra Facciamo il lancio Cioè io vi ho lasciato i soldi Scusate Scusate Sto digerendo ancora Le cotolette Eh sì Ma ha fatto Ho fatto uno da E dove Dentro control Non è notato No L'avevo comprato io Abbiamo due lanci signori E poi arriverà anche il terzo E' un soldi Eh no Casi No io non ho sparato No bro Hai lanciato io Un body Come fa a mirarmi da sinistra Se sto dentro il Sei scemo Grazie per la risposta Riffle I'm coming bro No I don't coming I coming Ma fra Ma dove cazzo sparano Porca troia Poi bisogna Di pasto Mario e Monti Alla lupo bianco Ma guarda Sto pezzi da f*** Cioè Ma invece di sparare L'amico davanti a me Mi ha dovuto confermare Ma è imbazzito Misto mare No però bisogna fare la rima Allora Antipasto Misto mare Misto mare Misto No anzi Antipasto Alla lupo di mare Misto mare L'ospa viene al campione Ma chi è che t'è arrivato a rompere scatole scusi? Il campione bro, il campione Siamo campioni fortissimi E non poti ma perdere E fa fiore, merda Ecco qua Ho chiamato Marco troppo forte, Marco è troppo forte Troppo in questa vita ci vuole pazienza 200 a piatto, e mamma mia ora Cioè questa 200 a piatto 200 a piatto vuol dire che praticamente tu ne mangi uno e sei a posto per un mese Guarda che bocca, guarda L'oro estemine, l'oro estemine Dai aspetta, non c'è un cazzo Amo una squadra forte insieme Io non ho scambio di coppie Mi fa piacere Io ho coppia di cuori E va bene, Nassu, dei bastoni? Faremo Ho più mille l'auto Ma io è te Ma regà, ho preso tante formiglie sul lancio Quanti push mi bro Era one shotissimo bro, l'ho lasciato andare one shotissimo E continua ad essere one shotissimo E continua ad essere one shotissimo Oh il cc Give me the Give me the Give me the Give me the money I don't have ruffing bro Sul tetto Pretex sale sul tetto Spara tutti e nessuno Si ruba delle kill Che non so neanche che su Ma sto coso fa schifo Zii, ma non fa danno Mi hanno nerfato L'anti-shit mi ha preso per un cheater e mi ha nerfato E ieri sera niente Ho dormito, mi sono riposato un po' alla fine Oh, lupo, ciao Eh, ma va Perché? Perché c'è un'arma in mano C'è un'arma in mano E' un'arma in mano E' un'arma in mano Che è successo, ragà? Nulla, mi sparo solo tre caricatori di calmi diverso e quello non muore Odio, odio, odio Se vedo Ma porco di quello Ma ci va a sapere dove c'è? Ma mi sto scendo, è ok, ma Ah, mi vedeva, mi vedeva Mamma mia, che discord Ehi, ehi, ehi Ehi, 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 mera Porco discord Ma sto ancora comunque digerendo Oh, oh, oh Nulla, mi sbloccava Chi l'ha fatto? Ho visto? Ho visto? Ho visto? C'è uno che è entrato in casa da noi Numero Dos teams Dos teams Estanno qui e pesando Io tengo que... Tengo que pesando contigo Perché lo esco qui, no Ma perché mi mata a mio? Eh, va beh, non n'è possibile Di questo Farauno Bacha Ma arriva questo del qua, zio Pera Oh, 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 oh Mamma mia Sei rimasto tu contro due, fra Senza armi in bo Poi l'altro piatto della casa è l'inguina lo zio Pera Bello, fra, bello L'inguina lo zio Pera Io mi farei un sciagallino Mi farei un bello sciagallino, bro Giusto perché non hai nulla da fare Ti va bene, quando cazzo lo finisco, sta sciagalla? Subito Domani È la roba, tazzo Eh, però, poi lo shop è sotto C'è proprio niente Bella Questo ha busciato Niente, hanno chiuso, fra T'hanno chiuso, niente, niente No, mi dissocio, mi dissocio Indaggiatelo sciagall Vabbè, è rimorto in tutti i casi, fra Almeno ci hai provato No, però lo sciagallo è importante Lo sciagallo Lo sciagallo È saltato le riunioni, no? Che? È saltato le riunioni Quindi non sai che quando dobbiamo giocare una pubblica È come se dovessimo fare una privata torneo Se io ti chiamo cinque volte, dammi le piastre Eh sì Me le devi dare, tra le po' Ma chi la sentite? Quando mi hai chiamato le piastre? A chi dice? No, ma che c'entri tu? Sì Ma io ti faccio la registrazione della partita di prima da PlayStation, io non ti ho sentito una volta Minchia Ma manco io ho sentito, dammi le piastre, dammi le piastre, dammi le piastre Non ti rimani Te ne vai Poi quando dobbiamo farle noi, capito? Eh mannaggia subito Eh io mi devo far sentire, zio, perché non è corretto È un'ingiustizia No, fra, perché poi vedo che poi faccio uno sopra il tetto e lo faccio Oh, guardingo, 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 guardingo Ambitato Ma è una gara che... Ho capito, ho capito No, stiamo sperando troppo del nostro team, Luis Lo dico, lo dico per lui e per far allenare il team, fra Eccolo, eccolo Non ti ho sentito una volta Ah, no, aspettate, fermi, fermi Che? Mi stavo con error, regà Ah... Io non ti ho sentito una volta di vanno in partita Prima Ma perché mi chiamano Error è da PC, frate Eh, ho capito Che è bugato E ogni tanto gioca per questa Ma scritta di pomeriggio Che era libero dal lavoro E mi sono fatto Quando stai giocando Allora, special Ti mi faccio l'ultima estacco Tanto, regà Ah, ok, niente Niente Mi chiamo stanotte Che tanto sono a casa Appena finisco di lavorare Anche ora torni Su luna Eh, assoluto, cazzo C'è, regà Va bene, bella, bella Va boh, nata, nata, nata Ma dal team poi chi ci sta? Nessuno, frate Va boh, va boh Arrivo subito Arrivo subito Spero mi ho mentito Spero mi ho mentito Spero mi ho mentito Grazie a tutti. E' di blu qua, ma... Quello è tutto ciò. Ragazzi, ragazzi. Ragazzi, io mezz'oretta stacco. Vado, vado poi, regà. Bra, vado che sennò stasera poi non attacco, bro. Sto troppo... No, bra, me devo riposare un attimino. Sì, sì, sennò stasera arrivo collassato. Sto svegliato alle quattro e mezza, bro. Ho attaccato, mi sono fatto... Eh, verso 24. No, 12 ore sicuro. Vabbè, comunque, per fare la Yara, niente. Mi sono svegliato alle quattro e mezza. Che cazzo faccio? Che cazzo faccio? Alla fine ho attaccato. Mi sono fatto un'oretta di partite su Code of Live. Ma che fai, bra? E c'hai una vita... L'altro streaming che fai, che bello. Mamma mia, bra. Mamma mia. Eh, qual era l'altro piatto? Ah, bistecca con contorno di... Di tabuschale. Ma tu hai montato una frutta marina. Si è montato una tabuschale. Eh, comunque, stavo dicendo... Comunque, ho attaccato un'oretta of live. E niente, ho fatto qualche partita così. E tipo, in una partita, ho beccato Ami Schilla con moi. Ami Schilla mi fa... Oh, ma questo ufo bianco... È amico di qualcuno che conosco. Allora... Allora... Mille due, mille due. No, non potevo, sa... A chi, a chi? Tiene, tiene. No mi senti, ti vai. Grand'o? Si. Andiamo una sola. Ma che cazzo stavo? Ho guardato un po' ieri, non l'ho beccato quel momento. Eh, ma perché quel momento lì è stato... Che erano tipo le 5 di mattina, fra... Non penso che alle 5 di mattina lo stavi guardando. Lupo? Che ho avuti, eh? Guardi. Fra, a quel momento, capito, è stato alle 5 di mattina, fra... Quando io mi sono sfiato alle 4 e mezzo, ho attaccato, mi sono messo a giocare. E lui... Capito? Ho stavato... Ho saltato un BR coppia. Diciamo, come un a caso, ho trovato un italiano con cui poi ci ho fatto altre partite. E... E nulla. E... E ho trovato anche lui l'obbligo. E chi è più forte tra... Leone e la tigre. Eh... Che vuoi, oh? Chiamo casa 4. Non ho capito, che stai dicendo, zio? Casa nonna, casa nonna, ragazzi. Tre persone. Niente, non conosci il meno. Uno da fuori, uno da fuori, ragazzi. E lo scioppo? Ti vanno che fai... Sembra completamente... Io ce l'ho dentro la casa di The Quarter, fra. Non capisco dove, però. Mi hanno fatto la notte, ragazzi. È da notte. L'ho fatto qua, lo shop. E ho fatto questo qua dentro. Dai, dai, dai. Divine che fa? Dobbiamo giocare come se stessimo in privata. Zio, poi, primo che va a fanculo, che cazzo suoi. No, non si. Sono appassato. No. Si. Ma che... Ma quando mai, zio? Che sei andato là a uscire? Vagano. Vagano. Quell'altro. Sì, a chi l'hai chiamato? A chi ha detto che stava andando a pusciare di là? Vagano. Vagano, li vediamo. Non c'è poi, non c'è altro cazzo. Eh no, perché poi mi girano le balle a sentirmi disteccare. Brava, perché è vero. È vero. Cioè, Tex mi faceva le colle. Io sono andato a pusciare quello che l'ha messo a terra. Tu non hai detto un cazzo da nessuno. E io sono andato l'altra casa, eh. Sì, vabbè. Senza dire niente a nessuno, zio. Hai partito per fatti due, frate. Una volta danno devi dire sì, hai ragione. Hai ragione, bravo, ho sbagliato. Me sono dimenticato. Ponte la menta. Ho fatto questo qua a sinistra. Manca quello là dentro... E le pinga tre sotto, zì. Sotto, sotto, dopo le scalette. Eh, lo so, solo che mi sto piastrando. Butto, butto una mina... Quella che guarda. No! Dove sei tu? Oh, no, no, ho sbagliato. Eh, ma ho fatto, ma ho fatto. No, sono due, sono due, sono due, fra. Sono più... No, tre, tre addirittura. È un altro team. Ma devo litigare per forza, zio Pera. Lo dico a gattuso, comunque. Vai lupo. Lupo, ti lascia i soldi qua? Ti posso... Eh, è trattato, uno a terra. Vieni con me, ha preso un po' lupo. Continua che sti sento sulla... Tu sei entrato già sotto? Eh, è mio Dio, non è vero. Uh, ti ha abusciato, bro. Non è vivere! Merda, merda, merda. Miche, si è morti tutti. Vado via perché quello mi ha pingato quando ta' killà. È l'ultimo. Eh, lo so, mi stanno cercando, infatti. Sono loro, sono loro. Eh, gli altri tre mi stanno venendo a cercare. Da che parte stanno, più o meno? È uno qua. Fatto un altro. Allora, dai, se lo mirano. Sono rimasto in due. No! No, l'altro... Guarda là! Mamma mia, sono gassato all'ultimo. Ce credo. Sabbe, Domenico. Ho ben tornato. Io, tra l'altro, tra poco, mangio pure i calamari fritti. E approfitto che, quando i calamari sono quasi pronti, vado a mangiare. No! Tazzi, tazzi, che to... Eh, tazzi, che to... Tazzi, tazzi, che to... Il barrio. Skrillets! J Balby! C'è gente, c'è gente qua da divanare. È inferiori. No, vado a fuori! Mamma mia, che ne sta beccando qui. Oh mio Dio, Luco, che cazzo. Mamma mia, bra. No, mi ha sciolto, tre colpi. Eh, ma che c'aveva? Amplix, ne è pure lui, mi sa. Vabbè, è buono, lo giusto. Vabbè. Mamma mia, ti sei fatto un po' di sonno. Luisa, la serie del follo. E... Oh, che c'è? Soldi, non t'ho sentito. Piastre, piastre. Ah, piastre, vieni. Non ho più. Cioè, c'è una sola, lascia. L'emico ha chiamato... Stai scammatissima. Da dove t'ha sparato, zio? Da 9. Da 9. Mi ha fatto il giro di quella da 9. Ah, perché ce n'è un altro, quindi. Zio Perone. Non lo vedo. Sì, sì, sì. Non c'è l'idea per tutti. Eh, l'ha fatto, l'ha fatto, l'ha fatto. Ho preso, non c'è gente. Dazzi, dazzi, ghetto. No, che cazzo t'ho fatto? Bro, ho sparato a uno sul tetto. Mo' so che sto qua. Eh, sono fritto. Come il calamaro che tra poco magna. Che cazzo t'ho smilato, ho caldo. Cioè, che arrivano tra un po' di wine. Arrivano, che brutto. Vazio. Stanno al secondo piano. Uno è arrivato, uno è arrivato. L'altro ce l'è davanti. Due marche. Ho confermato uno. No. Mi ha fatto l'altro. Fatto? Fu finito. Minchia, zio, che è successo? Arriva. Oh. È entrato un altro, è entrato un altro. Oh, mio Dio. Vieni via, vieni via. No, porco Dio, un altro. Ma che è tutto un team? È un altro team. C'è la maschera? Siamo in un po' di lavata. Oh, france l'abbiamo davanti. Come sale tutto il team? Non prendere l'A6. C'è il Ghetto Gandalf che sta morendo. Ah, ma aspetta, ma aspetta, aspetta. Ah, bro, da che mica mi stanno a rompere le scatole? Stanno un sacco di loro sul tetto. Dai, Cicco. Due sul tetto. Stai salendo tu sopra? Mi sa che sarai più sopra. Stanno sul tetto dei chemical, bro. Mi stai buttato. Eh, c'è buttato uno qua. E' un altro teambo. C'è buttato sotto da te, tipo. No. 3v2. Uh, decon, 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 decon. No, siamo 3v3. No, siamo 3v3. Sì, tazzighetto. Eh, tazzighetto. Vai. GG. Bomba. Si vola. Bomba. Buonasera, Marianna. Buonasera. Si vola. No way, bro. GG, GG. GG. Facciamo volare questo GG in chat, signori. Non mi fa abbandonare la partita. Non mi fa abbandonare la partita, signori. Dobbiamo gustarci per forza l'animazione. Guarda, guarda, guarda. E adesso adesso... Niente, è pronto. Non fa uscire. Prima facciamo uscire. Pronto? Ragazzi, proprio buggato. Cioè, proprio buggato abbandona. Se schiacciano mi fa abbandonare. Che cosa significa? Vai, esci, lupo. Non mi fa uscire. Te lo faccio su Dio. Sì, non so che fare. Non mi funziona il pulsante. Aspetta. Ma vaffanculo, va. Dopo tre ore ha funzionato. Comunque, lupo, lì sono andato a guardare il bot e lì hai trovato una scusa per litigare. Ma quando mai c'è? Vabbè, perché giustamente ho bisogno... Non c'ho niente da fare. Adesso mi metto a litigare con il divine. Non c'ho niente da fare. Non c'ho. Eh, che ti devo dire? Non so che ti passa dalla te. Eh, vabbè. Ho guardato il bot, sono entrato nella casa, tu hai detto c'è uno da mettere, lo sei fatto, io mi sono fatto quei due, poi dopo che mi sono fatto quei due io sono entrato... Ah boi, ah, basta, basta. A posto, è finito lì il fight. Allora lì l'errore non c'è stato proprio fra... L'errore non c'è stato, vabbè. Basta. Parla il bot. Parla il bot. Sì, parla il bot. Immaggia, quel porco un pamo. Gioga, gioca, io dopo questa vado. Pure io vado, Luca. Sacco. Dopo questa stacco tutto, stacco. Allora. Modo ormai per tre giorni. No, no. Cerco di... Di non andare a fare il riposino. Che se vado a fare il riposino mi sveglio alle quattro di nuovo. Cerco di... Di tirare avanti. Cioè, mi riposo dove, capito, non faccio niente di che. Però... Non... Come si chiama? Non... Cerco di non andare a riposare. Però... Capito? Sto un po' così nel chill che non faccio niente di particolare. Non... Non mi metto a fare nulla di che, magari, sai. Perdo un po' di tempo, fino a otto e mezza, nove. Poi attacco le nove. Poi... Facciamo un'altra due, tre ore insieme. Poi vado a collassare. Mi dissocio, Domenico. Mi dissocio. Così, così nel sacro lo fanno mio padre, i miei nonni e lui. Sì, così nel cubo. E' peccato che quando faccio il riposino io mi sveglio il giorno dopo poi. Ciccio, fai il bordello col microfono, cacca. Ciccio? Funziona? Funziona? Eh, sì, sì. A mo' funziona. Sembra che non fa rumore. E ogni tanto mi fa... Parla, parla. Eh, no, ogni tanto lo fa. Sì, sembra un po' di tempo. Sì, or ciccio. Ho la pensione dell'imp. Compriamo in un microfono nuovo. Ma io penso che... Che c'hai? Le cuffie attaccate al joystick? C'è. Mmh. E allora hai il contatto con il joystick che a volte lo devi staccare attaccato? Sì, sì, il contatto con il controllo. Dai, perciò, perciò, perciò. Andiamo a preso, dai. Ciao, Francesco. Ciao, Francesco, bello. Oh, hai question. Che c'è? No, ho capito che è successo, dai, a Tex. Non so. Oh, ne ho tre appena a terra, ragazzi. Ti ho ripreso? Eh, io non c'ho l'arma. Sto arrivando io. No, mamma, ma ha sciolto, ma ha sciolto. È sotto di voi, regà. Eh. Ne è uno giù, è bagnito. Comunque, Giccio, quando parla, me lo dà in rosso, come se fosse nemico. Baggia. No, anch'io vi vedo rosso. Finché, siamo tutti nemici. Andiamo, ma non è che se lo sparo molto. Ah, andiamo. Dai, sto lì per il low-out. Vai. Non ce l'abbiamo allo shop. Andiamo allo shop di control. Faccio il lasso, perché ce l'ho avuto one-shot. Stop. Falto. Chop the control. Non lo puoi, tienilo. Grazie. Ah, ha fatto anche loro load-out, eh. One. Uno solo, se lo provo, là. Uno lo vedo, eh. Uno lo vedo, eh. Uno lo vedo, eh. Uno lo vedo. Dov'è, dov'è? Non lo vedo. Ho finito i colpi, ho messo il lancio, ma hanno sparato pure dalle tende, zi. No, la bomba è... Ha entrato tutte le granate con la pala. Dopo arriva l'altro. A terra. A terra. Quattro, no. Mi viene indietreggiare, raga, mi sta perfumando, che mi doleva. No, mi han tirato col cecchino. Da dove? Eh, da control, me sa. Non sale sopra la torre. Dalle casette qua sotto prison, che mi sparavano avanti. Busca. Vabbè, mi confermo. Ma sta? Ah, oggi è la storia, ragazzo. Sono mancato. Vogliamo Matteo. Cattelino rosso per Matteo, sotto la doccia. No. Oh, zi. Sono due team. No, camper, non va a andare al lancio. Non va a andare al lancio, ciccione. No. No, fra. No, 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 no. Eh, lancio in una zona, non è la sua parte. Mamma mia, che so, ciò ciò ciò. Non è la sua. Rimani fermo, rimani fermo. Farespawn. Scendiamo a quell'altro, che appena sceso gli diamo una mano. Dai, che caviose, anche l'altro è libero. Sarpentino, guarda. No, ma ha tirato il grappolo, zi. Tagliamo il dare. No. Uno, due, due. Tanti. Tanti. Dai, allora. Tanti. Tanti. Tanti, raggi, raggi. Sottato con la mano Hai più astra? Ecco se mi lasci da più astra per favore Nooo minghia quanti sono? Dove lupo? Nella cassa di DuGorte dove sta il pingo verde Arriva arriva Sono quattro eh sono quattro Eh ma sai che pusciano loro noi Uno K.A. Siamo sotto il piano centrale Bello E' il team ma non c'è? Prendiamo il tetto di Friso Raga raga lasciate i soldi che faccio guarda Arrivo Ah il 6 agosto bello fra il compleanno e il 6 agosto Prova rai Non c'è lo shop Non c'è credo Eh già Niente datemi i soldi comunque Prendiamo il tetto Dammi i soldi Bello il compleanno dei vostri Uno che mi copre verso control Vai E fra come minimo devo organizzare qualcuno Un circolo da sotto Sì ti lascio un cima in sopra Fentimi sopra a te Ok 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 Su Friso non si? Vuoi chiedimi sopra a te Eh che falle Crackato blu Crackato blu Crackato blu Crackato blu Crackato blu Cosa vuoi mandare? Cosa vuoi mandare? Cosa vuoi mandare? Cosa vuoi mandare? Vai Voi Voi lancio prima che scompare Sì Di troppo C'è un altro che ti pare? Sì Un po' il team Uscia l'altra Terra Uscia l'altra Motto L'altro me lo vengo a destra Andando ai bagni Dai si è beccato con un team ai bagni Sotto 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 Vado in siringa fra Mi sa che c'hanno fantasma gli amici eh Eh infatti tu che guarda Oh coi bastoni Un segreto E' un'altra lab Si si un'altra lab Bomba Da Ma manco qua Vedi quanto quello che ha fatto Quei bastoni In teoria si siamo In teoria si In pratica se non collasso Arrivo arrivo Torni a me Dove è l'NZ? Dove è l'NZ? Terra Bravi 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 Oh Ho fatto una cazzata Ho fatto una cazzetta Qua Dove vuoi andare con Quanto siete scarsi in una salita Mamma mia Peccato Doveva andare con la mitragliezza Battle push Ah posso sponare Ok Bocchiamoci Buona balla molto buona Guarda il giro Cazzo da sopra Ma che frak Faccio il giro io Vai C'è uno sul tetto Dagon Che loro hanno perso l'high ground Uno pensa che ha il carrello lì Uno è qua Uno è lì Uno è sotto Ma hanno visto a me Ma hanno visto sul boccione Intanto mi hanno tirato il bombardo E l'avete due lì Alla prisa Uno è nelle mura lì Uno è sotto E' l'ultimo L'ultimo è lì con lui Mossa finale No Fammi fa la mossa Fammi fa la mossa Finale Wata E' regalo Tra un cecchino Atterretto Bravici Bravici Bravi Mamma mia Speriamo che non collasso Bene ragazzuori Ragazzuori E' giunto il momento di salutarci Ci becchiamo più tardi Sperando che non collasso Buonanotte Buonanotte Pronto? Pronto? No non c'è nessuno Vabbè Ci siamo Ci siamo dimenticati Saluto a ciccio Vabbè saluto pure ciccio Allora Dai ci becchiamo più tardi Se non collasso Bella regà No Allora Buonanotte Sì sì Buonanotte Eh buonanotte Stavate buonanotte a tutti Vabbò Dicevo Dicevo Praticamente Niente ragazzi Ci becchiamo forse più tardi Dai Adesso Vado Vado A dopo Nel caso Se mi sveglio A dopo Se non collasso Se no Ci becchiamo domani Tanto Se avete la notifica Arriva la notifica Quindi sapete che sono entrati in live Ma massimo Date una controllata Se le 9 e mezza Non sui live Massimo 22 C'è sta un problema Se lo fai non vinci per 10 partite Vado Domenico Vado Vado che Veneto Ce la faccio più Dai A dopo Ragazzi Un bacione